Se non conosci il valore del prezzo di ciò che stai commerciando, stai perdendo tempo. Brutale, ma questa è la verità. Ogni cosa nella vita, compreso il successo, ha un proprio prezzo. E se non lo si conosce perché lo si ignora, è presto detto cosa si rimane. Inutile immaginarsi un domani commercianti di successo, top manager, se poi il modo soperandi che si sceglie non si limita a far perdere soldi, ma fa anche perdere diottrie davanti ai monito. E cari miei, la vista è una delle cose che nella vita, una volta persa, non si potrà mai recuperare. Quindi bisogna stare molto attenti sulla modalità in cui si desidera raggiungere i nostri obiettivi, poiché se si sbaglia nella scelta potremmo non raggiungerli affatto, causando danni irreparabili. Non ha alcun senso in finanza cercare un'informazione che educhi il gestore nell'individuazione in una struttura a tempo-prezzo, pattern grafici, corrispondenze visive. Poiché il mercato monetario telematico, conosciuto come Forex, è un processo stocastico dove nel paradigma a tempo-prezzo si trasforma in un'immagine frattale che si ripete all'infinito, nella sua forma, allo stesso modo, su diverse scale. Strutture complesse, ricorrenti, autosomiglianti. In una struttura a tempo-prezzo ogni immagine che si vede non ha alcun significato, se non quel che la propria illusione suggerisce. E ciò spinge il fruitone ad un approccio totalmente empirico, perché è un modello a libera interpretazione, non è misurabile, se non misuri non puoi calcolare, paradossale in contesto monetario. E poi è la più importante perché le banche centrali di certo non stabiliscono il prezzo della propria moneta in base ad analisi tecnica, ciclica, pattern grafici o indicatori di ultima generazione costruite sulle più popolari piattaforme di trading. Lo fissano in maniera totalmente autonoma, cioè un approccio scientifico, misurabile, per stabilire e mantenere stabile il valore della propria moneta sul mercato. Ed è da questa informazione che bisogna partire, cioè prestare attenzione al prezzo e alle sue relazioni. E ciò lo si può fare solo attraverso una struttura che impone un approccio sulle corrispondenze di più elementi dello stesso insieme. E cosa c'è di meglio se non la GMATFX? Prezzo di moneta X è vero solo quando prezzo di moneta Y è all'interno di un determinato range, altrimenti è falso. Questa è la logica che un operatore di successo ha in testa quando affronta il mercato. E guardate che questa è la cosa più semplice da fare. Il proprio fallimento in questo contesto è dovuto a distrazione ereditate da modus operandi costruiti su strutture che impongono scelte commerciali tramite immagini. Fortunatamente la GMATFX ha portato un enorme cambiamento nel vostro approccio. Ovviamente parlo di alcuni di voi. Non mi è nuovo sentirvi parlare delle vostre scelte operative basate non più su immagini, ma su relazioni di prezzo. E questa cosa è per me gratificante. Questo rimane l'unico modo che io conosca per essere performanti sul mercato. Lavorate sul prezzo.